Il demonio è dietro a chiunque si erige in una maniera o nell'altra con la superbia, con la superbia e l'arroganza saccente di essere al di sopra degli altri, di colori i quali spadroneggiano in un certo senso la religione, si ritengono il monopolio esclusivo, danno etichette, danno sentenze, dicono sempre le stesse cose. Quindi come possiamo facilmente riconoscere chi è da Dio? Chi è da Dio è nell'amore, è nell'accoglienza, è nella fraternità, è nell'unzione, è nella verità, cioè è nella parola di Dio e non solo, è la sua vita stessa che parla di vita, è la sua vita stessa che parla di misericordia, di accoglienza ed è proprio quello il centro dell'Evangelo dove Gesù come nostro Maestro ci ha insegnato che quello che conta, anzitutto innanzi agli occhi del Signore, la carità e la misericordia, la comprensione e non di certo il giudizio, l'elitarismo, l'esclusivismo, il sentirsi migliore degli altri, proprio come gli scrivi e i farisei che furono chiamati ipocriti. Certo perché ciascun di noi ha i suoi limiti, ha le sue fragilità e noi soltanto della grazia di Dio abbiamo necessità e bisogno ed è nella grazia di Dio che potremo camminare nel suo progetto divino che è un progetto di amore. Siamo stati creati per essere amati, siamo stati creati altresì per amare nel suo amore e se comprendiamo questo allora potremo veramente vivere nella verità e nella libertà. Grazie. 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 Grazie.